buon forno a tutti non vedevo l'ora di utilizzare questa battuta è straordinaria no buongiorno a tutti oggi è martedì temperatura a 37 gradi sono appena ritornata a casa dall'ufficio è luna passata e il meraviglioso silenzio che sentite è perché le bambine sono in ludoteca l'asilo è finito abbiamo terminato la scuola dell'infanzia si chiama così adesso credo la o la scuola materna e quindi adesso fino a che io non vado in ferie loro andranno in ludoteca solo visto che si divertono abbastanza e così ho anche io un po di tempo per per me e non mi vergogno a adesso pranzo mi faccio la lavatrice con calma stendo le cose sistemo casa e poi nel pomeriggio vado a fare la spesa e poi ne vado a prendere intanto loro stanno lì c'hanno un sacco di cose da fare una ludoteca gigante quindi è voglia mi trovo molto molto bene noi ci siamo sedite in questi giorni oggi mi trovate un pochettino acciaccatella perché dovete sapere che io non ci credo a queste cose non è il secondo specchio che si rompe non l'ho rotto io l'ha rotto stella io non sono scaramantica e tranne per quanto riguarda le scale non passo mai sotto alle scale ma più che altro perché questa cosa ve l'avevo già detta mi dà fastidio l'idea di passare sotto la scala che possa cadere non per altro nel da queste parti c'è una festa molto importante in questi giorni che la festa della madonna del carmelo che si concluderà stasera quindi ci sono le giostre che tutto costano uno stompo cioè con due bambini veramente è un mutuo andare sulle giostre comunque sono due sere che le abbiamo portate stasera e l'ultima sera non credo che usciremo anche perché arriviamo a sera veramente stanchi anche perché mio marito torna tardi quindi prima di mezzanotte non ci si ritira l'altra notte le bambine sono andate a dormire alle due perché c'era l'ingresso in chiesa della processione della madonna del carmelo che è una cosa molto suggestiva perché a un certo punto fanno proprio ballare la statua è molto molto bella le bambine credo che l'ultima volta che l'abbiano vista erano nel passeggino e c'era ancora mio padre quindi almeno quattro anni fa quindi finché siamo la statua si ritira verso mezzanotte tra una cosa e l'altra siamo tornati a casa a luna fino alle due non si sono voluti addormentare perché mamma è stata una festa troppo bella poi fuochi d'artificio insomma così e ieri sera antonietta lagnava ovviamente dicendo sono stanca non ce la faccia salire al piano di sopra per cambiarmi e per lavarmi i piedi e le solite cose prendimi in braccio io che ho rimesso per la seconda volta le scarpe e nonostante i cerotti ho rifatto le bolle quindi io ho buttato soldi con quelle scarpe ho detto vabbè ti prendo in braccio io io avevo l'infradito sono caduta perché l'infradito è di un numero più grande del del mio perché sono quelli di mia sorella quindi ha fatto così io sono caduta in avanti ho battuto la gamba il braccio si vede che gonfio c'è proprio il pomfo e e l'antonietta abbattuto la schiena mi sono spaventata più che altro per quello quindi ho preso il ghiaccio le ho messo subito il ghiaccio e le ho fatto un gel infatti lei stamattina non aveva neanche il livido perché insomma l'ho difesa un po con le braccia io dopo non me ne sono resa conto stamattina quando mi sono svegliata sono completamente contratta al collo e la schiena ho preso un brutto il colpo è stato brutto perché infatti antonietta stelle è corsa giù a chiamare papà e poi mi ha chiesto scusa perché mi ha detto mamma mi devi scusare colpa mia se siete cadute perché io avevo detto facciamo la gara a chi arriva prima su perché noi per convincere antonietta a fare le cose anche la sorella lo sa la deve mettere sulla competizione e facciamo chi finisce prima il piatto allora noi certe volte tipo delle cose stupide e chi prima arriva alla macchina senza piangere dopo sceglie il cartone animato sono quelle la specie di cose compromessi e quindi mi sono mi sono ciaccata bene bene sulla gamba è l'ennesimo livido ma qua è proprio gonfio mi ha fatto impressione però non mi fa male devo essere sincera sono visto subito no mi fa male però non molto insomma comunque io vi saluto in tutto questo cerco di vedere game of thrones la 7 per 3 city spoiler niente non spoiler io non parlerò di game of thrones della settima serie fino a che non sarà finita non sto leggendo niente non sto guardando niente perché la guardo in lingua originale quando riesco di solito il lunedì ci riesco non ci sono riuscita non importa abbiamo una novità in giardino io non so se farvela bere aspettate abbiamo la dispensa è in disolvia non si vede perché ci sono sono appena tornata a casa ci sono le inferriate gli zii ci hanno aspettate vediamo se si è regalato la piscina abbiamo anche la piscina perché eccola ecco è enorme è una piscina enorme centro anche io quindi non vi dico è stata la sorpresa di domenica hanno bussato all'improvviso io gliel'avevo promesso che il mio cognato promesso che gliel'avrei comprata io non lo sapevo mio marito lo sapevo gliel'hanno gonfiata adesso devo prendere un telo per coprirla qualcosa per l'acqua insomma mi devo attrezzare un attimo perché non sono attrezzata si divertono da morire si divertono veramente da morire dentro alla è il loro elemento l'acqua quindi vabbè un po meno mio stare fuori nel giardino in mezzo all'erba che mi io sono germofobia però mi sto abituando al giardino quest'anno devo dire la verità va bene io vi saluto ci vediamo più tardi allora io ve lo dico sto per andare a fare la spesa se non mi vedete più non vi preoccupate avrò avuto un collasso e starò in qualche ospedale ricoverata voi state tranquilli non è successo niente stavo inciambando per le scale di nuovo no ragazzi fa troppo caldo sono da poco passate le tre ma devo per forza andare a fare la spesa anche perché allora il pacchetto che io ho per le gemelle con sconti cose varie promozioni varie mi consente mi consentirebbe di poterle tenere dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera lì credo che qualcuno lo faccia no vabbè voglio dire dipende da che tipo di lavoro fai è chiaro però voglio andare a fare la spesa così ho il tempo di riportarla a casa e poi le vado a riprendere perché comunque anche se loro stanno lì a divertirsi con l'aria condizionata quindi questa casa non è particolarmente calda ho visto game of thrones mentre mangiavo della buonissima festa di tacchino e delle zucchine bollite con i pomodorini e quindi mi voglio spicciare in fretta per fortuna il centro commerciale al parcheggio sotterraneo mi porto la borsa a frigo perché devo prendere qualcosa di fresco e faccio più velocemente possibile per non interrompere la catena del freddo lo sapete che sono fissata su queste cose e dopo di che dopo di che muoro muoro mamma mia no comunque game of thrones non non lo sto ben capendo è ma non lo so questa settima stagione mi sa di un po di come gressanato mi di tirare avanti non lo so il bozzo mi fa male gli dovrei dare un nome bozzo come ti vorresti chiamare sono piena piena basta io faccio così e avrò questo però sulle buste queste sono le buste della spesa mi carico come un molo vabbè vado è inutile perdo tempo tanto purtroppo nessuno mi fa la spesa a domicilio da queste parti non si usa mi ricordo che quando vivava quando vivevo a milano quando vivevo a milano con mia sorella era meraviglioso che blindo mi arrivava l'esse lunga a casa e da queste parti non si fa però voglio dire ciò a cinque a cinque minuti supermercato da casa ci vado giusto in macchina perché devo caricare roba devo di mi devo ricordare un paio di cose sono stanca veramente oggi sono un po stacca perché sono due tre sere stiamo facendo veramente molto molto tardi come orari e ho fatto tante cose in casa ho sistemato tante cose anche in giardino abbiamo messo la mia marita ha messo le luci abbiamo fatto delle cose che sono un po stanca forse invece della spesa potevo riposarmi una mezz'oretta ma ho preferito preferisco così non mi va di lasciare le bambine troppo tempo in ludoteca un poco mi mancano ma questa cosa che ho detto loro non la sapranno mai ma ci vediamo dopo lo so che a qualcuno di voi fa piacere che io dica ci vediamo dopo perché ci vediamo dopo e tu tu lo sai chi sei ci vediamo dopo mi ero scordata di dirvi una cosa aspettate che come le vecchie mi tengo al corrimano come le persone anziane perché non sia mai che vengo tacciata anche di essere volgare su questa cosa mi tengo al corrimano ragazze abbiamo un grave gravissimo enorme e l'infantiaco problema le gemelle hanno assaggiato i vasa e gli piacciono da morire le mangiano a due a quattro alla volta quindi io faccio un appello signor vasa lei si impassi una mano sulla coscienza lei si renda conto ma proprio vasa io gli avevo detto per scherzo gli avevo detto non volevano mangiare una cosa ho detto vabbè allora cosa vuoi questo vuoi provare questo se poi non lo mangi però mi arrabbio non lo sprecare perché mamma piacciono tantissimo no no io li voglio assaggiare buonissimi dammene un altro dammene altri due ho detto no aspetta ciccia cala la pretesa un attimo vabbè dopo tutto tale madre tale figlie però stanno andando ultima adesso inizia a nascondere gli dico che non ce ne ho cioè non mi chiedono più le schifezze tipo quelle cose per bambini o le cose mi chiedono i vasa a mio marito no mio marito li ha assaggiati quando è stata l'altra sera mi fa ma sì ma fammela assaggiare uno fammi sapete che sa ci aveva messo sopra non lo so che cosa un salume credo ma come fa a mangiare sto cartone è cartone ma è buono signor vasa quindi lei signor vasa comunque ragazze io dico una cosa io sono convinta di avere un forte calo della vista o è il calo della vista o è la crema solare che io metto la mattina che mi scivola negli occhi perché io non ci vedo troppo bene cioè non è che non ci vedo troppo bene vedo un po come se avessi qualcosa negli occhi forse a furia di toccarli a fare così mi porto la crema quello che ne rimane sopra e faccio disastri adesso in questo momento mi stanno dando un fastidio enorme infatti continua a toccarmeli e mi da fastidio vabbè queste cose niente di che allora mi viene da ridere però io lo devo dire ma voi alla sfiga ci credete perché a me è una settimana che mi succede di ogni tutta roba risolvibile ringraziando al cielo è ma non lo so ma che è sta sfiga inciampo sbatto sono distratta sono un po non lo so scusate sono andata a fare la spesa sono messo un po perché ho visto delle cose che mi interessavano c'erano un sacco di offerte avrei dovuto portarmi più più sacchetti non mi volevo caricare troppo perché fa veramente caldo c'è quella sembra di stare nel deserto del sahara bene questo video è tutto sulla sfiga i miei malanni fisici e la temperatura calda quindi va bene vi va bene così molti adorano la mia quotidianità questa è la mia quotidianità chiedovenia non è non è intenzionale no vabbè ma veramente ci stavo notando stavo notando che sono particolarmente distratta in questo periodo e quindi tendo a inciampare in continuazione tendo a dimenticarmi le cose tipo se me ne stavo andando di casa con le chiavi nella toppa ma chissà come mai io alla sfiga non ci credo io sono cattolica come dice sempre una mia amica di un padre nostro quando la pensi quando che pensi che ci sia qualcosa che vada male per qualche motivo insomma vabbè io vi saluto faccio un altro paio di commissioni perché non sono ancora le 16 poi vado a prendere bambine e mi dedico totalmente a loro quindi non girerò non girerò blog lo so che vi dispiace che state lì che vi strappa i capelli che volete vedere le gemelle che non vedete l'ora di vedere le gemelle ma io le manderei volentieri ogni giorno a casa in una casa diversa vostra ovviamente a gruppi di due separate come volete ve le porto a domicilio con la valigia e giochi tutte le ammennicoli mi sono messa conto che fuori sul barbecue ci hanno messo la stessa di barbie che io avevo lavato a mano e che ci hanno giocato nella piscinetta quindi saranno l'erce e piene di polvere perché è pieni di aghi di pino perché ci sono gli alberi fuori e quindi le devo rilavare e c'è questa distesa che sembra l'olocausto delle barbie più un ciccio bello nudo così sono tutti che sembra che si stanno abbronzando tra cui la barbie che la famosa barbie che si abbronza in quattro minuti comunque comunque un giorno di questione la piscina mi ci metto perché io ci entro perché credo che abbia un diametro di quasi due metri quindi io ci entro qualche giorno oggi sarebbe la giornata ideale il problema è che devo devo svuotarla perché mio marito deve tagliare il prato e quindi adesso vediamo come fare sarà anche questa un'altra cosa da fare questo pomeriggio per fortuna che non ci si non devo preparare niente di complicato per cena perché queste sono le serate in cui si fanno cene fredde e quindi è molto tutto molto semplice io vi saluto ci vediamo al prossimo vlog registrerò quando possibile domani domani non devo andare in ufficio quindi ci saranno le gemelle in casa se riesco voglio voglio fare un video dei prodotti terminati ma quasi quasi lo giro adesso se riesco perché ne ho terminati veramente tantissimi e alcuni molto interessanti di cui ne volevo parlare so che ne ho fatto uno recentemente ma quasi quasi lo giro adesso ma va e sì oggi è mercoledì poi si butta la plastica non fa una grinza c'è tutto qua io e il mio bozzo vi salutiamo ci vediamo domani con un altro video ciao a tutti ciao a tutti